di essere intervenuti. Abbiamo indetto questa conferenza stampa per mettere dei puntini sulle i sull'ultimo scandalo a Fittopoli, per il quale il Movimento 5 Stelle aveva già sviluppato un lavoro più di un anno fa che si era concretizzato attraverso una serie di atti, tra cui un esposto alla Corte dei Conti, un'interrogazione parlamentare ed una diffida al Sindaco Marino. Quindi questo lavoro è stato consegnato a Tronca nel momento del suo insediamento e non è errato dire che in questo momento il Prefetto si sta rivendendo in qualche modo un lavoro già sviluppato dal Movimento 5 Stelle, che peraltro ha identificato non solo questa come area di azione all'interno del bilancio del Comune di Roma, ma una serie di sprechi che arrivano alla cifra ragguardevole di circa un miliardo e duecento milioni, che saranno illustrati in maniera molto analitica e dettagliata nel corso di questa conferenza stampa. Quindi in questo momento il lavoro di Tronca per una mano sta in qualche modo rivedendo e rivendendosi già un elaborato del Movimento 5 Stelle e per un'altra mano quello che doveva essere il Dream Team si sta trasformando in un vero e proprio incubo per i romani, perché passa dalla privatizzazione degli asili nido, infatti sono previsti circa 206 nidi da privatizzare nei prossimi tre anni, di cui 17, sottolineo, sono già stati identificati e riguardano proprio aree più svantaggiate e periferiche del Comune, nonché alla riabilitazione dei camion bar della famiglia Tredicine che imperano a San Pietro e dintorni. Quindi nel corso di questa conferenza stampa noi vogliamo sottolineare e chiarire la nostra visione reale di cambiamento, perché il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che ancora una volta si conferma garante del cambiamento, che può agire in discontinuità rispetto alle giunte che hanno preceduto questa città e che in qualche modo hanno governato in maniera assolutamente scellerata, tanto da ricondurre a dei numeri di bilancio assolutamente disastrosi. Sappiamo che noi cittadini romani paghiamo soltanto di addizionale IRPEF circa 200 milioni e che fino al 2022 questa cifra servirà a coprire un debito che peraltro è già stato liquidato dalle banche. Quindi al termine di questo periodo, per quello che riguarda solo la gestione straordinaria, il Comune si troverà ad affrontare un debito di circa 7 miliardi di euro, solo per quello che riguarda la gestione straordinaria e si tratta di numeri che, come dicevo, sono già stati anticipati dagli istituti di credito. Questi sono soltanto alcuni spunti del disastro economico e finanziario che hanno condotto le giunte precedenti fino a Marino e, come dicevo, questa amministrazione straordinaria non opera in discontinuità. Quindi, come dicevo, nel corso di questa conferenza andremo poi ad accogliere anche le vostre domande, i vostri spunti per quello che riguarda i nostri elaborati e i nostri lavori. Il risanamento parte per un efficientamento delle risorse, per una valorizzazione del patrimonio pubblico, per un controllo di gestione delle società partecipate, usate come un bancomat, per le quali un miliardo e sei sono soltanto i debiti, l'indebitamento di Atac. Quindi, tutto questo deve essere condotto, come dicevo, dall'unica giunta prossima possibile che garantisca questo reale cambiamento. Io ringrazio, lascio la parola ai miei colleghi che illustreranno punto per punto quanto detto. Grazie. Sì, grazie. Personalmente speravo di arrivare in conferenza stampa con maggiori informazioni dalla Commissione Antimafia che sta udendo il Presidente del Sesto Municipio di Roma. Visto che siamo in un ambito nazionale, mi piace precisare che quando si parla di un municipio di Roma si parla di 300.000 abitanti, si parla del municipio riconducibile, comunque al clan dei Casa Monica, si parla del municipio verso il quale il rapporto barca indicava essere uno tra i più difficoltosi e più compromessi in quello che era stato il periodo del tesseramento, si parla di un municipio verso il quale il Presidente e il Partito Democratico aveva chiesto ufficialmente che venissero rassegnate le dimissioni. Questo per indicare come il Partito Democratico nel suo interno sta operando, quindi non c'è assolutamente da parte della dirigenza, se vogliamo chiamarla tale nella fattispecie del Dottor Orfini di poter in qualche maniera intervenire sulle cattive gestioni da parte dei suoi amministratori, né tantomeno c'è da parte dello stesso Partito Democratico un atteggiamento di dignità o un filino di vergogna di lasciare le poltrone anche un attimo prima di quello che la legislatura naturale pretendeva. Allora, la scorsa settimana nel sesto municipio è stata presentata una mozione di sfiducia da parte del Partito Democratico verso il proprio Presidente. Tale mozione di sfiducia non è passata perché due componenti della lista Marchini hanno appoggiato l'attuale Presidente del PD, quindi ci domandiamo anche in virtù della campagna elettorale e dei candidati che si stanno presentando, della credibilità con la quale si presentano ai cittadini romani. Marchini da una parte va dal notaio per far cadere Marino, però nel sesto municipio si tiene ben stretto un Presidente di municipio che oggi è udito in Commissione Antimafia. Allora, qualcuno di voi ci avrà anche criticato e poi ci saranno sicuramente le domande su tutta una serie di provvedimenti che noi stiamo mettendo in opera affinché non esista all'interno del Movimento 5 Stelle un voto dato ai cittadini che venga poi tradito dalla trasmigrazione che oggi al Parlamento è così ben tangibile di chi si sposta dove più gli fa comodo. Noi ci presentiamo con un programma, ci presentiamo come ha detto la collega con dei dati e con dei numeri che ci permettono di essere forti del nostro programma e della nostra riuscita e sicuramente continuiamo ad essere l'unica forza credibile ed onesta in grado di partecipare a una competizione elettorale importante come quella della capitale a testa alta, con le sue regole, con i suoi metodi, senza dover scusarsi di niente con nessuno. Lascio la parola a Roberta che aggiungerà qualche cosa, grazie. Sì grazie, io prima di addentrarmi su quello che è il prospetto più pragmatico delle soluzioni che noi mettiamo in campo, cioè l'individuazione delle risorse e un'ipotesi di allocazione di queste risorse finanziarie, vi volevo dare una notizia che ancora non è uscita. Il Tribunale di Roma, il giudice per le indagini preliminari, ha disposto il giudizio per Ignazio Marino per diffamazione per aver accostato il nome del Movimento 5 Stelle alla mafia. Da oggi in poi tutti devono sapere che accostare il nome del Movimento 5 Stelle alla parola mafia sia una valenza diffamatoria e siccome ci sono anche illustri colleghi che si sono, forse pensando che l'immunità parlamentare gli schermasse dagli effetti della giustizia, avvalsi di questa facoltà di poter impunemente, speravano accostare il nome del Movimento 5 Stelle alla parola mafia e nello specifico parlo di Stefano Esposito e di Matteo Orfini, vedremo quando il giudice disporrà il giudizio anche per loro se si avvarranno dell'immunità parlamentare o se avranno il coraggio di ridire questa loro improvvida affermazione. Invece diciamo che il referente politico del sistema mafioso di la mafia capitale è e rimane sempre il sistema partitico nelle sue varie forme, Forza Italia, PD o trasformazioni varie che ne conseguono. Sistema partitico che anche nella presentazione dei prossimi candidati ha messo in campo anche forse con una vena un po' a Marcord quando forse ancora il PD tirava come partito a Roma, due competitor, due persone che si riallacciano a dei tempi in cui appunto il PD forse celebrava ancora dei fasti, sempre però scaricando i costi della sua vanagloria sulle generazioni future. Parlo di Roberto Morassut che era l'assessore all'urbanistica di Veltroni e di Roberto Giacchetti che era il capo di gabinetto di Rutelli. Ci chiediamo che cosa facevano queste persone quando stavano in comune perché come noi siamo andati in due anni di lavoro a rintracciare più o meno un miliardo e due di sprechi e mancate entrate ci saremmo aspettate che cotante amministrazioni con queste fiorfiori di competenze riuscissero a fare lo stesso lavoro. E poi invece vedi che una commissione spending review preseduta dal 5 Stelle fa un lavoro analitico su tutti quelli che sono appunto gli sprechi e le mancate entrate e va ad individuare i 100 milioni di tronca che ha rivenduto e tutti i giornali hanno rivenduto come stima di tronca che veniva invece dal nostro, sugli sprechi di affittopoli che veniva dal nostro documento. Un risparmio di 10 milioni annui relativamente all'emergenza abitativa ed è un risparmio, io vorrei ricordare che questa stima di un miliardo e due di sprechi e mancati incassi è una stima prudenziale perché solo per quanto riguarda l'emergenza abitativa abbiamo individuato questi 10 milioni di risparmio nella gestione dei residence proprio per l'emergenza abitativa quando in realtà se poi si andasse a fare applicare la legge delle dirizze residenziali pubbliche e si facessero pagare i costruttori, gli oneri, i concessori, i diritti di superficie avremmo più o meno sempre stime prudenziali un altro miliardo minimo di euro da reinvestire nella città, cioè soldi delle nostre tasse che anziché finire nelle tasche di pochi qualificati soggetti finanziatori delle campagne elettorali di centrosinistra e centrodestra finiscono guarda un po' miracolosamente in servizi e qualità della vita dei cittadini. Poi abbiamo 35 milioni di tassa di soggiorno, 4 mila sono le strutture abusive a Roma, sono delle stime di federalberghi, abbiamo 20 milioni ogni anno di risparmi sull'illuminazione pubblica con un'opera di razionalizzazione paragonata alle altre città europee e poi abbiamo 12 milioni di annui di risparmio nella gestione dei campi rom in attesa che si vada verso il superamento dei campi rom come ci chiede l'Europa, secondo uno studio dell'associazione 21 luglio perché noi spendiamo 25 milioni di euro l'anno, 12 milioni in meno saranno probabilmente la marchetta che finirà nelle tasche di qualcuno per gestirli nella maniera che Mafia Capitale ha perfettamente disvelato. Altri 10 milioni di risparmi dall'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi, sono 160 dati veramente per due spicci a più o meno amici di amici, noi siamo stati gli unici a fare un censimento quindi quando fra qualche mese magari arriverà il tronca di turno dicendo abbiamo scoperto 160 campi sportivi, impianti dati per due spicci ecco sappiate mettiamo agli atti che lo diciamo noi oggi. Faccio un esempio, lo stadio di Caracalla sono 4 euro al mese di canone di locazione, non male, capannelle sono circa 5 mila euro al mese che direte, insomma inizia a essere una cifra abbastanza interessante, peccato che sono 173 ettari, 173 ettari sono 1 milione 730 mila metri quadri a 5 mila euro al mese, ci fanno i concerti, è il più grande d'Europa, un galoppatoio a Villa Borghese per esempio sono 200 euro al mese e così via continuando. Poi abbiamo i risparmi più o meno altri 10 milioni di euro dati dai tagli alle auto di servizio per i politici del comune di Roma, 280 auto per 190 autisti che paghiamo attualmente. Ecco diciamo che la somma di queste e tante altre voci dà un miliardo e due ed è una stima prudenziale. Come un governo del Movimento 5 Stelle andrà a investire questi soldi nella città? Allora i dati Acer riferiscono che la manutenzione di 10.000 strade romane praticamente di tutto il parco stradale costerebbe 200 milioni l'anno, quindi finalmente delle strade sicure. L'assessorato alla scuola ha stimato che costruire 150 nuovi asili nido costa più o meno 150 milioni, sarebbero 10 asili nido in più a municipio con la carenza di posti nido che ci sono, insomma immaginate che servizio per i cittadini che potrebbe essere. Quindi 200 e 150 siamo a 350. Poi abbiamo gli autobus, autobus vecchi fatiscenti che si rompono in continuazione, aggiornare il parco ricambi ma anche comprarne nuove, ad esempio 500 nuovi ogni autobus costa più o meno 200 mila euro, quindi con altri 100 milioni di euro rimetteremmo a posto il parco autobus. Questi sono dati ATAC, non ci stiamo inventando niente, abbiamo semplicemente letto le carte, messe su un foglio Excel e fatto alla fine un totale, una cosa rivoluzionaria per l'amministrazione pubblica. Completare l'anerro ferroviario di Roma, 500 milioni di euro e non siamo arrivati neanche al miliardo e due che avevamo stimato finora. Questo è quello che potrebbe fare per questa città, ovviamente non tutto e subito perché questi soldi sono da recuperare nel giro di dal tempo zero nell'insediamento a un anno, ma queste sono le politiche a favore dei cittadini che il Movimento 5 Stelle mette in campo per questa città attraverso un'amministrazione di buonsenso. C'era tra l'altro una voce curiosa nei recuperi, una voce su cui il mio collega Alessandro Di Battista adesso vi parlerà. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui io. Vedo che qualcuno prende appunti, invece qualcun altro è in attesa di parlare del codice di comportamento del Movimento 5 Stelle. Risponderò su tutto, anche perché ne andiamo fieri di questo codice di comportamento. Qua risulta che sembra che tutte le questioni tirate fuori dalle mie colleghe, che determinano tra l'altro il futuro di questa città martoriata, governata negli ultimi vent'anni dai criminali e dagli inetti, non abbiano importanza. Ha importanza il codice di comportamento del Movimento 5 Stelle. Ripeto, un orgoglio. Ma andiamo per grado. Ultimamente tutti i difetti c'era il Movimento 5 Stelle ma arrestano sempre gli altri. Oggi quanti ne hanno arrestati? Il partito di maggioranza quanti arrestati ha? Quanti indagati ha avuto oggi? Oggi l'ennesima dimostrazione che è partita un'altra inchiesta a Roma che riguarda la politica. L'ennesima inchiesta. Ogni giorno c'è un'inchiesta, ogni giorno c'è uno scandalo e noi tiriamo fuori delle proposte, delle soluzioni. Abbiamo individuato delle spese sulle quali intervenire. Ma che crediamo che questa città si risolve con le chiacchier con un intervento duro? Pugno duro. Il Movimento 5 Stelle per Roma intende portare avanti una politica di pugno duro a cominciare dall'interno. L'avete letto il codice di comportamento quello che dice? Dice che le proposte di atti e di alta amministrazione, le questioni giuridicamente complesse verranno preventivamente sottoposte a pareri tecnico-legali a cura dello staff coordinato dai garanti del Movimento 5 Stelle. Ci siamo anche noi ormai. Se ci siamo noi quattro parlamentari qui, Stefano Vignaroli, Federica Daga, perché c'è una squadra che interverrà su Roma qualora i cittadini decideranno di affidarci la gestione e l'amministrazione di questa città? Saremo tutti quanti uniti perché sappiamo che sarà un'operazione estremamente complessa amministrare Roma. Perché, ripeto, Roma ha avuto altri garanti. I partiti hanno avuto altri garanti. Il PD a Roma ha avuto altri due garanti. Non Grille e Casaleggio. Buzzi e Carminati. Questi sono stati i garanti del Partito Democratico. E parliamo di un codice di comportamento che, sì, applica una sanzione a chi vuole fare il Volta Gabbana. Qua, in questo Parlamento, è diventato un postribolo di dignità. In questo Parlamento ci sono stati, in questa Camera, forse, ma mi tengo stretto, 100 persone che hanno cambiato casacca. 100 persone per 150 mila euro fanno 15 milioni di euro. 30 silinido ci avremmo pagato sui migliori. Su chi altro c'è? Sulle dorine a bianchi, il rottamatore che chiama al governo una persona che cambia sette partiti in sette anni. Chi? Sul Romano. Su tutte queste persone che hanno fatto dalla Che a Renzi e sono stati promossi. Ecco, questo è il Movimento 5 Stelle. Il vincolo di mandato, per noi il vincolo di mandato ce l'abbiamo con il programma, con i cittadini che sono i nostri datori di lavoro. Per noi conta questo. I cittadini sanno, i Romani, se scelgono il Movimento 5 Stelle, sapranno che a costo di multare dei cittadini che non vogliono degli eletti, che non vogliono rispettare un codice di comportamento, noi siamo disposti ad andare appunto fino in fondo. Che altro dice? Che il sindaco e gli assessori dovranno informare gli iscritti al Movimento 5 Stelle e in generale gli elettori con cadenza periodica in merito alle attività compiute. Questa si chiama democrazia vera, non la presa in giro che è diventata questa democrazia parlamentare. Che dovranno intervenire sulle idee per la collettività facendo dei video e spiegando le posizioni che prenderanno politiche? Ma questo Renzi non l'ha mai fatto. Perché ha preso i voti Renzi parlando delle schifose riforme elettorali? Li avrebbe presi quei voti se avesse parlato delle schifezze che fa? O delle salvabanche? O di aver rottamato che cosa? La legalità, la moralità, la dignità quest'uomo ha rottamato. Il sindaco e ciascun assessore e ciascun consigliere si prende l'impegno etico di dimettersi durante il mandato se sarà condannato in sede penale anche solo in primo grado. E qualora i garanti o una votazione da parte dei nostri iscritti lo decideranno, si dimetterà anche soltanto se coinvolto in un'inchiesta giudiziari. Questo vi sembra qualcosa di preoccupante o è un'ottima idea che dovrebbero applicare tutti gli altri partiti? Se l'applicasse il Partito Democratico, questo, l'obbligo di pagare una multa qualora un loro sindaco condannato, un amministratore o consigliere comunale condannato in primo grado, ho finito con un'inchiesta drammatica, non si dovesse dimettere. Penso che questo Paese avrebbe milioni e milioni di euro per intervenire nel sociale. Ma vogliamo ricordare o no che di questa sanzione, quando si parla di questa sanzione si parla di una sanzione che andrà a scopi benefici. Quello che abbiamo sempre fatto, quando siamo entrati qui dentro abbiamo raccolto quattrini per la campagna elettorale, quello che non abbiamo speso l'abbiamo addirittura destinato ai terremotati, questo abbiamo sempre fatto. Quando contestualmente allo stesso tempo abbiamo il Presidente Orfini che si permette di fare supercazzole rispetto ai soldi che deve dare il Partito Democratico a noi romani, i cittadini romani sanno con chiarezza, perché noi li prendiamo in giro, che se il Movimento 5 Stelle dovesse amministrare questa città i debiti li pagherà il PD, i debiti li pagheranno quelle frattaglie di Alemanno, i debiti li pagherà anche il Vaticano, ci parleremo con il Vaticano e gli diremo che deve confrontarsi con i cittadini, non con questi partiti beceri, perché il Papa stesso disse se un convento lavora con motel di lusso è giusto che paghi l'IMU, l'ha detto Papa Francesco e ha ragione e noi sappiamo che ci sono delle agevolazioni che il Comune di Roma, ma in realtà tutti i comuni d'Italia hanno fatto allo Stato Vaticano che oggi in questa situazione sono inaccettabili e ci parleremo con il Vaticano, è il nostro diritto dovere parlare con il Vaticano, i romani che ci sceglieranno sapranno che i debiti li faremo pagare a quei palazzinari che detengono anche i giornali in questa città, e che non hanno mai pagato i diritti Roberta, i diritti di superficie, hanno proprio fatto il bello e il cattivo tempo, per quello ci fanno la guerra in questa città, per quello ogni giorno succede uno scandalo del Movimento 5 Stelle che sembra che sia responsabile di tutti i drammi e poi lo spread sale per le loro politiche, le banche vengono salvate con i risparmi dei cittadini, ci sono più indagati, arrestati, nuovo centrodestra che parlamentari, parlamentari, il Partito Democratico ha totalmente fallito sotto tutti i punti di vista a cominciare da quella famosa rottamazione con la quale il Presidente del Consiglio ci ha preso i voti, e là bisogna capire da che parte stiamo tutti quanti, anche voi, ogni giorno c'è una battaglia, sarà così fino a giugno, d'accordo lo sappiamo, ma siamo pronti, siamo prontissimi, che ha fatto di male il Movimento 5 Stelle a questo Paese? Ha fatto risparmiare dei soldi e dei cittadini, vuole che dalla RAI escano i partiti? Sì, perché ancora ci stanno e ancora più forti di prima, anzi ora c'è solo il Partito di Governo dentro la RAI, vuole che Mediaset paghi le tasse come le altre televisioni mondiali? Sì, vuole che i giornali non paghi, non abbiano il finanziamento pubblico diretto o indiretto o non ci sia il ricatto, perché di questo si tratta, il ricatto da parte della Presidenza del Consiglio, delle pubblicità tramite bandi pubblicati sui giornali? Sì, vogliamo che tutti quanti ci ricordiamo che sono i cittadini i nostri datori di lavoro, a Roma questo sarà, questo codice di comportamento per noi è un orgoglio e vorrei ricordare come ultima cosa al Presidente Orfini, che era portaborse di D'Alema forse l'ultima volta che le sedi del PD hanno pagato certi debiti con noi romani, era portaborse di D'Alema e leggete quello che scriveva Di Renzi allora, vorrei ricordare che soltanto i 170 mila euro che devono dare in quella sede a noi i soldi dei romani sono gli stessi che io personalmente ho restituito tagliandomi lo stipendio in tre anni di legislatura, soldi che stanno finanziando le piccole e medie imprese la stessa cosa fa Carla Ruocco, fa Paola Taverna, fa Roberta Lombardi, Federica Adaga, Stefano Mignaroli e tutti i miei colleghi, questo è il Movimento 5 Stelle e per questo fa così paura, perché no, perché un sistema ci vuole come gli altri, tutto e per tutto, vuole che io mi candido a sindaco di Roma per poterci poi attaccare, siete come gli altri, io faccio qui il parlamentare fino all'ultimo giorno e ci sarà qualcun altro a portare avanti un programma, i romani devono votare un programma, già ce l'hanno avuti i grandi nomi, se vorranno sceglierci, ma sapranno i romani che un gruppo parlamentare, soprattutto i romani, lavoreranno giorno e notte, io, Paola, Roberta, Carla, Stefano, Federica, Massimo, lavoreremo giorno e notte per Roma, sabati e domenica lavoreremo per Roma, il gruppo consigliare di Roma, qualora dovessimo riuscire a vincere, verrà sostenuto dal gruppo parlamentare, perché per noi Roma è fondamentale, uno perché è veramente al degrado più assoluto, sotto tutti i punti di vista, io sono romano e ci tengo alla pulizia della mia città e per fare pulizia a Roma devi essere duro, ma soprattutto per il Movimento 5 Stelle è molto importante vincere a Roma e soprattutto ben amministrarla, per poter dare una spallata che noi vogliamo dare al governo Renzi perché è un governo che ci sta impoverendo. Grazie. Si possono fare domande? Dunque, io volevo capire come fate ad applicare questa norma rispetto all'articolo 67 della nostra Costituzione, cioè l'articolo che dice che non c'è vincolo di mandato. Quindi come si fa ad avere un regolamento che impone 150 mila euro di sanzione quando la Carta Costituzionale impedisce questa cosa? Mi chiamo Claudio Fusani, sono dell'Unità, scusate non l'ho detto prima, la seconda cosa, volevo sapere come sta andando con la scelta di tutti i candidati. Grazie. Grazie a lei delle domande. Allora, la prima, l'articolo 67 della Costituzione. Mi fa piacere trovare tanto attenzione nei confronti della nostra Costituzione quando proprio in queste aule, in questi giorni, in questi mesi ne sono stati stravolti tutti i pesi e i contrappesi che garantivano l'equilibrio tra i vari organi che i nostri padri costituenti avevano messo a salvaguardia della nostra democrazia. Detto questo, il vincolo di mandato non ne facciamo assolutamente mistero ed è dal primo giorno che lo diciamo, per noi non è assolutamente uno di quei valori da salvaguardare perché nonostante siano due anni che stiamo qui dentro non ci sentiamo ancora onorevoli, ci sentiamo ancora dipendenti dei cittadini e quindi quando tu dal tuo datore di lavoro ricevi un incarico e non ottemperi a quell'incarico, te ne devi andare a casa. Se io compro, se io pago un professionista, un libro, un avvocato per tutelare i miei interessi, nel momento in cui l'avvocato non fa i miei interessi, fa i suoi o peggio ancora magari fa quelli della persona con cui io sto in lite, ho tutto, ho il diritto di poterlo licenziare e dire guarda ti ringrazio, quella è la porta. E questo è il principio che ci muove. Dal punto di vista giuridico tra l'altro è stato costruito comunque anche in maniera tale che appunto reggesse a delle obiezioni di questo tipo ed è stato configurato come un risarcimento del danno all'immagine del Movimento 5 Stelle che è una persona che non si sente più di applicare i valori del Movimento 5 Stelle che io vi ho spiegato, cioè il sentirsi portavoce di un programma e di un progetto all'interno delle istituzioni, arrecherà al Movimento stesso. Per quanto riguarda il discorso di come stiamo procedendo per le candidature, settimana scorsa sono iniziate i caricamenti dei profili degli aspiranti candidati sul portale del Movimento. Si stavano risolvendo in queste ore gli ultimi problemini tecnici eccetera eccetera quindi nei prossimi giorni verranno aperte le comunarie di Roma, sarà possibile vedere le presentazioni e curricola degli aspiranti candidati e a seguire votare il primo turno e successivamente il candidato sindaco. Diciamo che per metà abbondante di febbraio avremo il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Posso? Giuseppe Carboni, Tg2. Io volevo sapere a proposito del decalogo, insomma se avete visto oggi che il vice segretario di Pd Guirini ha rilanciato anche in maniera pesante la legge di riforma dei partiti, insomma l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Peraltro Guirini ha definito anche ridicola la scelta dei 150 mila euro, volevo sapere cosa rispondevate. La seconda cosa se ho capito bene, rilacciandomi alla parte introduttiva fatta dalla Rocco della Taverna, insomma dalle parti del prefetto Tronca si sono presi il vostro studio, se lo sono messi in tasca e poi se lo sono rivenduto per dirla alla Romana, questo ha il senso. Insomma ci sta, insomma il vice presidente Guirini i giorni in cui sostanzialmente vengono fatte delle operazioni con i cinesi a Milano che in altri luoghi d'Italia si chiamano Ondrangheta, Camorra, Mafia, Voto di Scambio, le chiamano Integrazione, deve attaccare appunto rispetto al Movimento 5 Stelle. Per loro, ripeto, avere volta Gabbana è una loro scelta programmatica, cioè loro campano grazie a volta Gabbana, campano grazie al gruppo misto che è qua in questa Camera, il terzo gruppo politico più numeroso, il gruppo misto, dopo il PD e il Movimento 5 Stelle, c'è il gruppo misto, non eletto da nessuno, è il gruppo più numeroso, il terzo gruppo più numeroso della Camera dei Deputati e senza i volta Gabbana, senza le persone hanno fatto un vero e proprio tradimento, un mandato elettorale, non avrebbero avuto i voti per far passare una legge, una riforma costituzionale, ma ci rendiamo conto che paesi siamo diventati? Che qui alla Camera è passata grazie a un premio di maggioranza incostituzionale e al Senato è passata grazie a volta Gabbana. Ci credo che voglia intervenire in questo modo perché proposte di codici etici come quelle appunto portate avanti dal Movimento 5 Stelle ridurrebbero il Partito Democratico appunto in un partito che non avrebbe più un sostegno istituzionale perché di volta Gabbana che hanno in qualche modo cooptato ce ne sono appunto numerevoli. Se posso aggiungere una cosa, io sono felice di sentire chiamare in causa la Costituzione l'articolo 67 per ribadire dei principi importanti e fondamentali, mi domando come mai in una fase storica di stravolgimento della Costituzione, di metter mano su qualunque fosse un principio fondante di quello della democrazia, si va a contestare un tentativo quantomeno di rivalutare quello che era il principio dell'articolo 67 perché si lasciava libertà ai parlamentari che non erano questi parlamentari, che non erano eletti con il porcellum, che erano indicati dai cittadini e che quindi a me sembra anche difficile accostare oggi a un diritto che i parlamentari possono freggiarsi di avere. Si va in Parlamento con un programma, noi siamo fieri di rispettare un programma, di rispettare quello che è il mandato dei cittadini e faremo tutto quello che è il nostro potere affinché questa sia una garanzia di chi ci vota che sarà quello che noi manterremo. Per quello che invece diceva lei, sì, molte delle cose buone che Tronca oggi si sta vendendo, sono frutto del lavoro dei ragazzi che erano in consiglio, dei tavoli di lavoro che hanno operato affinché venissero fuori tutti gli sprechi, che hanno indicato lo scandalo a Fittopoli, c'è un'esposta alla Corte dei Conti, c'era una lettera, c'è un'interrogazione parlamentare, quindi noi da parte nostra come forza di opposizione avevamo fatto tutto quello che potevamo fare. Marino ne era a conoscenza, però l'intimidazione di sfratto alla sede del PD è arrivata col commissario, il sindaco del PD se ne è guardato bene di portare a compimento quello che era un'azione già portata avanti e messa in atto dal Movimento 5 Stelle. Volevo precisare solo una cosa, infatti c'è da sottolineare il fatto che abbiamo parlato di circa un miliardo e duecento milioni di sprechi annuali che gravano sulle casse del bilancio comunale. Allora qua c'è da fare anche un'altra riflessione, se il nostro lavoro era già pronto e non solo quello sugli affitti che tra l'altro sia ben inteso, noi siamo ben felici quando finalmente con gravissimo ritardo vengono accolte delle nostre proposte. Noi però chiediamo conto di tutto il resto dei soldi che sono stati sprecati da quando abbiamo iniziato le nostre mozioni, i nostri atti anche all'interno del Comune fino ad oggi e dei quali ancora dobbiamo avere conto e ragione. Faccio un esempio a caso, in uno dei primissimi giorni della Consigliatura è stata presentata una mozione in cui si identificavano circa 90 milioni di euro di sprechi soltanto riguardanti l'Atac. Adesso i cittadini romani devono chiedere conto e ragione del motivo per il quale quei soldi sono ancora sciupati. Ricordo che l'addizionale comunale IRPEF ci costa 200 milioni di euro, 90 milioni sono solo uno, una mozione che risale già a circa due anni fa. Quindi di questo devono dare risposta tutti coloro che ancora oggi rimangono nell'inerzia. Grazie. Io vorrei capire se questo decalogo verrà pronto in Roma o verrà applicato in tutte le città che andranno al voto perché già oggi la vostra candidata a Torino ha rivendicato autonomia dicendo che non lo applicheranno e poi su Milano se Patrizia Bedori resta il vostro candidato se su questo nome si può aprire una riflessione. Allora uno dei principi fondamentali appunto del Movimento 5 Stelle è un principio di autonomia dei singoli comuni per cui questo decalogo, questo regolamento che dà appunto pulizia all'interno appunto delle forze politiche è stato studiato e scritto da noi e quindi noi lo intendiamo applicare a Roma. Per quanto riguarda quindi l'autonomia resta io so che Patrizia Bedori appunto è il nostro candidato sindaco a Milano e prego. Noi ci stiamo occupando di Roma questa conferenza stampa e poi noi speriamo che a Roma venga anche utilizzato dalle altre forze politiche a cominciare dal Partito Democratico. Lo firmasse, il senso Morfini può firmare questo oltre a un assegno che poi dimostreremo. Posso? Giorgia Mendoni è la 7, la re che tira. Santa di Battista lei ha detto il nostro vincolo di mandato sono i cittadini. Parlando di unioni civili però, questo posto di grillo è arrivato, libertà di coscienza eccetera eccetera, però in quel caso la votazione sul blog a favore delle unioni civili non è stata il vostro vincolo di mandato? No, in realtà poi ieri è arrivata come l'ha visto una precisazione perché la votazione che abbiamo fatto sul blog qualche mese fa era specifica sulle unioni civili, sulle quali noi siamo d'accordo, mentre invece rispetto all'articolo 5 della legge che è in discussione oggi al Senato è stato deciso di dare vincolo di mandato in quanto quella decisione non era stata presa da nostri iscritti. Però molti attivisti si sono sentiti in qualche modo traditi? Altri attivisti, la loro posizione è sempre rispettabile, altri attivisti si sentivano traditi perché non veniva dato il vincolo di mandato rispetto ad una decisione all'interno di una legge che condividiamo, sulla quale complessivamente ci siamo espressi e che non era stato Quindi la ragione è anche un po' la trasversalità del vostro movimento? La ragione è il rispetto dei cittadini che tra l'altro per noi non sono elettori o voti, sono cittadini, prima di essere voti sono cittadini, ripeto, nostri datori di lavoro e noi abbiamo avuto moltissime richieste nell'ultima settimana di un'analisi maggiore. L'analisi maggiore, il vincolo di mandato per un articolo significa dare l'opportunità a una serie di senatori di avere la possibilità di una riflessione in più e trattasi di questioni estremamente importanti, fondamentalmente se si arriva ad un risultato durante questa legislatura, non è un caso che la legislatura dove è presente il Movimento 5 Stelle dare l'opportunità di una riflessione in più ci sembra qualcosa di estremamente giusto e democratico. Vi posso legare un attimo a questa domanda al volo per chiedere... Io ho risposto però l'unica cosa, questa conferenza stampa oggi è su Roma, io poi risponderò dopo ad altre domande a margine però vi chiediamo soltanto di rimanere sul tema della conferenza stampa anche se io ho risposto anche a una domanda che andava oltre, cortesemente. Vabbè, io comunque le chiedo quello, poi mi dice se non vuole rispondere. Chi l'ha decisa la libertà di coscienza? La libertà di coscienza io credo che sia stata un'azione estremamente seria da parte del Movimento 5 Stelle anche in virtù di tante critiche che ci sono state mosse all'inizio, che eravamo un gruppo giovane che doveva crescere, che doveva confrontarsi e con noi siamo abituati a confrontarci e a condividere con i nostri elettori. Nel momento della condivisione, che non era quella sottoposta a votazione sul blog, abbiamo riscontrato differenti posizioni, ma si è deciso in maniera collegiale. Se ci sono delle istanze da parte degli elettori del Movimento 5 Stelle che si ha bisogno di una maggiore riflessione su un tema, si decide che i parlamentari non sono vincolati a rispondere attenzione perché voi state spostando, se un parlamentare avesse votato in maniera difforme a quella che è la regola del Movimento 5 Stelle che si vota a maggioranza, quel parlamentare sarebbe stato sottoposto, come stiamo dimostrando che siamo in grado di sottoporre chi viola le regole che il Movimento 5 Stelle si dà liberamente, a sanzioni che potevano essere anche l'espulsione perché questo è il nostro principio. In un concetto così importante come quello della step child adoption non si può chiedere a un parlamentare di votare necessariamente a maggioranza ma riteniamo essere stato uno step importante del Movimento 5 Stelle di riconoscere per un caso etico di questa portata la libertà del parlamentare di esprimersi in maniera difforme da quella che era la maggioranza. Questi credo che abbiamo operato fin troppo... Due domande rapide su Roma, cortesemente. Ci fate un esempio su come funziona, come funzionerà questo coordinamento tra voi e il sindaco 5 Stelle nel momento in cui verrà eletto per prendere le decisioni più importanti e poi una precisazione, quanti sono gli iscritti a Roma che voteranno alle comunarie? Allora, gli iscritti certificati a Roma sono più di 9.000 che mi pare essere più o meno, mi dicono essere più o meno il doppio degli tesserati del PD nell'ultimo anno. Comunque, a parte le facili ironie, l'altra domanda era il coordinamento. Allora, stiamo valutando come lavorare in sinergia. Ovviamente le tematiche nazionali si riverberano su Roma e viceversa in maniera significativa. Facciamo due esempi. Giubileo, che è attualmente in corso, o Olimpiadi del 2024. Quindi, insomma, sono temi che partono da Roma ma hanno una rilevanza nazionale. Su temi del genere, tra l'altro lo stiamo facendo attualmente, la sinergia tra i portavoce ancora in carica o decaduti del Movimento 5 Stelle Roma e i portavoce parlamentari già c'è. L'abbiamo discusso la settimana scorsa, una mozione proprio sulle Olimpiadi del 2024 e abbiamo riportato dentro le aure parlamentari quella che era una posizione del Movimento 5 Stelle Roma. Quindi già funziona questo progetto di coordinamento. Sì, ma il sindaco è l'interprete finale, diciamo, è il terminale di una linea politica data in maniera collegiale. Quindi è ovvio che, diciamo, è appunto un terminale con un determinato ruolo, ma comunque è una parte di una squadra e sarà parte di una squadra. De Carolis, per fatto, volevo fare due domande romane. La prima, quanto pesa economicamente le agevolazioni al Vaticano, se avete fatto dei calcoli e tutto, e l'altra invece è il tema dei dipendenti del Comune. Se ve ne siete mai occupati, nel senso che i dipendenti del Comune sono troppi a vostro avviso, vanno riallocati, quanto costano? Mi si riposti, questo è un vecchio tema su Roma per quanto riguarda i conti. Allora, per quanto riguarda le agevolazioni complessive che lo Stato del Vaticano ha rispetto al Comune di Roma, dei calcoli che abbiamo, che sono davvero molto, molto, ci hanno anche stupito, per cui stiamo verificando, e ci dicono circa 400 milioni di euro all'anno. Per quello che riguarda la struttura dei dipendenti del Comune, Sicuramente, come dicevamo, a proposito delle partecipate, la ricchezza dei cittadini è stata utilizzata come un bancomat dalla politica e da tutti i partiti, in particolare poi su Roma il PD si è particolarmente scatenato. Quindi le azioni da fare riguardo al Comune e riguardo anche all'allocazione delle risorse umane sono sicuramente di implementare un controllo di gestione serio, capillare, e che quindi preveda l'ottimizzazione delle risorse che sono già in campo. Una volta che si ottimizza ciò che si ha, si rialloca molto meglio di quanto non sia stato fatto finora, perché come dicevo è stato tutto strumentalizzato come bacino elettorale, e a quel punto la macchina comunale già inizierà a camminare diversamente. La prima su Roma, quanto ha pesato nella stesura del decalogo la vicenda quarto? E la seconda è sulla step child adoption, se non avevate pensato, visto che non c'era nella prima richiesta al web, perché non avete pensato di fare un'altra consultazione via web per chiedere ai cittadini, ai vostri attivisti, cosa ne pensavano delle adozioni? Per nulla la vicenda quarto, tra l'altro la vicenda quarto si è sgonfiata così tanto tempo, insomma tutti quanti hanno capito che è stata soprattutto una strumentalizzazione di una certa stampa atta a nascondere le porcate che ha fatto il governo Renzi rispetto alle banche. Per quanto riguarda appunto la step child, esattamente poi, io ridico le stesse cose che ha detto Paola Taverna, trattandosi appunto di un tema etico per qualcuno, molto molto importante e considerando il fatto che poi i voti che ci saranno al Senato sono comunque e ricalcheranno perfettamente quello che erano le decisioni in precedenza, per appunto dare una tranquillità maggiore a quei senatori, due, tre, quattro, non so quanti saranno, che hanno ancora dei dubbi rispetto alla step child, è stata deciso di non sottoporre la votazione, perché una votazione da una con una decisione finale, o a favore o contro, avrebbe comunque messo in serissima difficoltà alcuni senatori che pensano che questa precisa, un unico articolo di una legge, ripeto, che nel complesso stracondividiamo e non è un caso che se si arriverà appunto al risultato finale e anche grazie al Movimento 5 Stelle, dava dei problemi di coscienza ad alcuni senatori. Sì, no, ma girano tante voci, lo decideranno tutti i nostri iscritti e il candidato che sceglieranno i nostri iscritti sarà appunto il candidato del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma. Vorrei soltanto ricordarvi che nello specifico si è fatto molto del mio nome, il mio nome come candidato al Comune di Roma, io non ho un'esperienza amministrativa capitolina, eppure per tante tante persone io sarei stato appunto, soprattutto tanti giornalisti onestamente, sarei stato il candidato ideale come sindaco di Roma. Il Movimento 5 Stelle nasce per far sì che i cittadini si facciano Stato, cittadini per bene. Siamo convinti, a Roma ancora di più, che più che un nome, un grande nome, i Marino, gli Alemanno, i Veltroni, i Rutelli, sia indispensabile per poter amministrare questa città che, ripeto, negli ultimi vent'anni è stato in mano a Dinetti e a Criminali, una squadra molto forte, complessivamente molto molto forte, che sia appunto supportata anche dal gruppo parlamentare, io mi aggancio un attimo alla domanda che faceva il giornalista laggiù, ce ne sono tanti di esempi rispetto appunto alla sinergia, io ve ne faccio un altro, è passata alla Camera, una legge prima firma Federica Businarolo sulla protezione dei dipendenti pubblici o privati quando denunciano casi di corruzione. Questa è una proposta che qualora il sindaco e la giunta del Movimento 5 Stelle a Roma decidesse di applicare, di sviluppare per il Campidoglio, chiederemmo chiaramente aiuto a colei, a coloro della Commissione di Giustizia che se ne sono occupati qui alla Camera dei Deputati, di poter dare una mano per sviluppare appunto una proposta applicabile al Comune di Roma. Una proposta sulla quale noi crediamo moltissimo. Una sola. L'On. Di Battista prima ha interpretato il regolamento dicendo che i garanti in qualche modo sono grillo e casaleggio, ma siete anche voi che fate parte del gruppo parlamentare che siete stati eletti nel Lazio. Io volevo capire, dato che questa formula dei garanti a quanto ho capito se voi doveste vincere le elezioni a Roma sarà cruciale nella gestione del Comune da parte vostra. Chi sono i garanti? I garanti lì è una forma un po' vaga. Sono Gianroberto Casaleggio, Beppe Grillo, Alessandro Di Battista, Carla Ruocco, Paola Taverna, Roberta Lombardi, chi altro c'è? Qual è la lista dei garanti? Io mi rendo conto che gli altri partiti hanno delle strutture estremamente verticistiche, organizzate quasi in maniera totale. Noi non siamo così. Noi abbiamo due fondatori nel Movimento 5 Stelle che si chiamano appunto Grillo e Casaleggio, abbiamo un gruppo parlamentare totalmente autonomo, abbiamo appunto attualmente un gruppo di persone, appunto chiamato direttorio, che sta gestendo determinate questioni, e abbiamo un gruppo su Roma che fa chiaramente... La vostra giocazione è chiara, volevo chiedere che sono i garanti su Roma. Io rispondo, ma i garanti del Movimento 5 Stelle sono soltanto due, sono Grillo e Casaleggio, con i quali parliamo quotidianamente, con i quali possiamo essere d'accordo o meno e troviamo una linea definitiva assieme. E su Roma evidentemente le decisioni su come portare avanti le candidature, su come scrivere questo regolamento, su come dare priorità attraverso una votazione su blocchi e ci sarà nelle prossime settimane a un punto programmatico rispetto a un altro, è deciso in sinergia tra di noi. Noi ci parliamo, siamo esseri umani prima di essere parlamentari della Repubblica e rappresentanti delle istituzioni. Di Battista, se posso. Ma questa roba delle multe, a chi dissente, non svelano che invece il problema è più ampio, ovvero che non vi fidate del vostro metodo di selezione delle candidature, che forse è quello che va rivisto. E poi, se posso, un'altra domanda. Le decisioni di Sindaco e Giunta che si troveranno a prendere una città complessa come quella di Roma potrebbero essere anche decisioni che vanno fuori dal vostro programma. In quel caso, deciderà Casaleggio per tutti? Ma assolutamente no. Questo programma, tra l'altro, lo stiamo finendo di sviluppare. Per cui, quando i cittadini romani decideranno chi votare, sapranno quale sarà il programma del Movimento 5 Stelle. E le decisioni dell'amministrazione del Movimento 5 Stelle non potranno essere chiaramente in contrasto con il programma. La prima domanda è sul... Mi va molto di rispondere a questa domanda. La selezione di quella che viene definita, tra l'altro, ancora ambiente sinistra, classe dirigente. Il Movimento 5 Stelle ha 1500-1600 eletti e ha avuto un caso, un caso, di un tentativo di infiltrazione che abbiamo individuato grazie alla magistratura e abbiamo spazzato via prima che gli arrivasse un avviso di garanzia. Questo è il Movimento 5 Stelle. Vogliamo parlare di selezione delle classi dirigenti dei partiti politici? Ma perché non pubblichiamo ogni giorno le decine, le valanghe di indagati, di arrestati? Oggi, oggi proprio, si sono dimessi tutti i consiglieri comunali di Brindisi dove è stato arrestato il sindaco. Ma chi ha deciso di candidare un intero consiglio a Brindisi con quel sindaco arrestato per corruzione? Ma guardiamo come i partiti selezionano le classi dirigenti. Questo documento serve perché per noi è importante il programma. E qua non si tratta, tra l'altro, di dissentire in generale. Ma che pensate? Che io non abbia dissentito in questi tre anni su qualche scelta? È normale. Il Movimento 5 Stelle è una forza politica di massa. Non è un partitino di nicchia. È una forza politica di massa. E ci comportiamo come, appunto, persone all'interno di una forza politica di massa. Non si tratta di dissentire. Si tratta di non rispettare un programma. Leggetelo il decalogo. Si tratta di non volersi dimettere qualora uno venisse condannato in primo grado con una condanna penale. Se tu non ti vuoi dimettere, perché non ti vuoi dimettere, perché hai la possibilità di non dimetterti, io ti applico una sanzione. Questo è un deterrente? Sarà al 100% utile? Non lo sappiamo, ma aiuta moltissimo. Perché non è che noi non ci fidiamo di un candidato o di un altro. Attenzione. Noi siamo convinti che qualsiasi sistema di selezione possa essere migliorabile. Ma intanto il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che per rispettare i cittadini applica dei regolamenti molto stringenti all'interno e da statuto non può candidare persone che sono inquisite, condannate o persone che hanno guai della giustizia. Quando dovete chiedere l'UMI informazione oltre a noi che rispondiamo rispetto alle selezioni della classe dirigente, andate da questi partiti che sono diventati simbolo di indagati, di condannati e di personaggi che utilizzano la politica per risolvere i propri guai giudiziari. I futuri, per esempio, consiglieri regionali con la riforma costituzionale se dovesse vincere Renzi quel referendum, ma ce la metteremo tutta per non farglielo vincere. Grazie a tutti. Un'ultima cosa. A Orfini, anziché firmare la legge, questa l'ennesima legge che poi l'unico obiettivo è quello che colpire il Movimento 5 Stelle, Orfini firmasse questo assegno. Lo dovrebbe firmare perché i soldi sono i soldi nostri, dei romani. Infattista, scusa, scusa, scusate. Questi sono 170 mila euro che ci deve, soltanto una sede. Scusate. 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 Scusate.